L'Aquila sta morendo da solo. Matteo Messina Denaro. Outside la sua stanza nell'edificio L4 dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Nel mezzo di un lungo e oscuro corridoio tra il centro vaccinazioni e la neuropsichiatria infantile. Ci sono solo 5-5 i poliziotti. Tra cui una donna. È il dipartimento detenuto al primo piano. Sulla strada. Tre uomini dell'esercito bloccano la porta d'ingresso diretta. Altri 5 agenti di polizia si fermano nel parcheggio e al tramonto un furgone con 6 agenti penitenziali risalenti dentro.